Fa caldo, caldissimo. Così caldo che il Ministero della Salute ha deciso di attivare un numero verde in 1500 per aiutare appunto le persone che avessero problemi con il caldo. Ma oggi fa meno caldo, oggi piove e quindi il numero verde è stato sospeso. Che grande paese l'Italia. Pensate, c'è addirittura un numero telefonico che funziona a seconda della meteorologia. Se fa caldo funziona, se non fa caldo viene sospeso. Benvenuto, gli operatori sono tutti occupati, rimandi in attesa, le risponderemo appena possibile. Il problema è che il fatto che il servizio sia stato sospeso non lo sanno neanche il servizio stesso. Così se provate a telefonare al 1500, come abbiamo fatto noi, vedrete che non risponde nessuno, meglio risponde una voce che vi dice di rimanere in attesa perché gli operatori sono tutti impegnati. E poi cade la linea. E magari riprovate una seconda, una terza, una quarta, una quinta volta, spendendo anche i soldi da telefonata e non risolvendo il vostro problema con il caldo. E rimediandoci anche un enorme, un grandissimo giramento di eliche. Viva l'Italia!